Ciao sono Simone e oggi vi parlo della linea Nutri di Napura. La linea nutritiva e idratante specifica per capelli secchi e opachi. Il Treat System Method di Napura si compone di una vasta gamma di prodotti pensati per prendersi cura dei vari inestetismi del nostro derma. In particolare la linea Nutri aiuta a mantenere integra e funzionale la struttura cheratinica dei capelli. Fattori ambientali, trattamenti aggressivi e lavaggi frequenti sono cause comuni dell'inaridimento della chioma. Vediamo come rinvigorire i nostri capelli per renderli facilmente pettinabili e luminosi. Il trattamento M8 Nutri Pre di Napura rafforza la fibra capillare e ne prolunga l'idratazione. Questo grazie alla presenza di microproteine del grano, proteine del cashmere ed estratto di ninfea che favoriscono elasticità, morbidezza e idratazione alla fibra capillare. L'olio idratante O8 Nutri di Napura invece è una maschera concentrata che nutre e migliora l'elasticità della fibra capillare dei capelli secchi. Il mix sinergico di oli vegetali, fra cui mandorla, avocado e oliva e le vitamine A ed E proteggono la fibra e ricostituiscono la fibra dei capelli, rendendoli luminosi e vitali. Lo shampoo professionale S8 Nutri di Napura lascia i capelli estremamente docili e voluminosi nel rispetto del pH cutaneo, grazie all'olio di yojoba e le proteine del grano e della mandorla. Completa il trattamento il balsamo C8 Nutri di Napura, condizionante in crema idratante specifico per capelli secchi e fragili. Estrati di ninfea, altea e cacao rinforzano i capelli, donando nuova energia e luscientezza. Passiamo all'esempio pratico di applicazione prodotto! Prendete il flacone di microproteine nutritive M8 Pre Nutri di Napura, ricordate di agitare la confezione e prima del lavaggio vaporizzate sulle lunghezze asciutte. Lasciate agire e dopo qualche minuto procedete con l'asciugatura dei capelli per permettere alle proteine di integrarsi nella struttura del capello. Dopodiché procedete con lo shampoo. La Oil Mask O8 Nutri di Napura, invece, può essere usata sia pre che post shampoo. Nel primo caso, attraverso lo special erogatore, distribuite sulle lunghezze e lasciate agire un attimo. Dopodiché risciacquate per ottenere un'azione nutritiva. Nel caso di utilizzo come post shampoo ad azione morbidente, distribuite sulle lunghezze, lasciate agire qualche minuto, dopodiché risciacquate e asciugate. Prendete lo shampoo nutritivo idratante S8 Nutri di Napura e attraverso lo special erogatore distribuite sulle lunghezze umide. Dopodiché procedete con un massaggio dei capelli. Infine, risciacquate. Prendete la maschera nutritiva idratante C8 Nutri di Napura e a capello leggermente umido distribuite, lasciate agire, dopodiché risciacquate. E questo era il trattamento completo della linea Nutri di Napura, la linea idratante specifica per capelli secchi e opachi.